Ciao! Buongiorno, buongiorno, buongiorno! La mattina sono qua sulla 21 in direzione Castel San Giovanni, per cui già un ritiro a Piacenza di 7 metri. E niente, oggi pensierini a random perché ho letto qualche commento e allora voglio fare dei pensierini a random sull'anatra. Perché la mia sigla è Anatra Metallica e c'è un motivo per cui mi chiamo Anatra Metallica. Qualcuno mi ha detto, non conosci il film di Anatra di Goma? Lo conosco, lo conosco, lo conosco! Sono cresciuta con Chris Christoperson che impersonava Martin del film Convoy, che c'era d'asfalto. Conoscevo anche tutte le battute a memoria. E sia il film che la sigla hanno un nesso con l'uso del baracchino, logicamente. Perché Anatra di Goma era la sigla del camionista nel film Convoy e Anatra Metallica la mia sigla. Tornando al discorso dell'anatra metallica, ai tempi dei tempi, perché ormai mi sento una vecchia nostalgia e non è che sono poi così vecchia. Comunque, i tempi dei tempi, per avere il baracchino dovevi fare la concessione. Quindi dovevi preparare tutti i documenti, compilare la domanda e poi spedirla all'inistro delle vostre comunicazioni. Poi ti rimandavano la concessione e poi con quella tutti gli anni pagami la tasca. La tasca si paga ancora. Però non c'è più l'obbligo del rinnovo della concessione ogni 5 anni. Adesso basta pagare le tasse. Comunque, quando tu facevi la concessione, nella concessione scrivi anche il tuo nome, la tua sigla. Tu usavi il baracchino con una sigla, perché si usava avere una sigla. Quindi dovevo trovarmi una sigla. Allora, Anatra di Goma sapevo che esisteva, ma era già negli anni 80 un nome inflazionato, nel senso che il film era del 78. Capite che nei primi anni 80 era un film ancora abbastanza recente, quindi molto salutato come nome. Poi ognuno giustamente voleva avere una sigla sua, che non distinguesse dagli altri, no? C'erano veramente carinissime, però ce l'ho capito. Beh, sento uno che è una bella sigla, non è che mi posso chiamare come lui o come lei. Giusto? Per esempio, io mi ricordo di una collega che faceva di sigla Cipria, che era una donna che era la più azzeccata in assoluto secondo me. Cipria. Uno dice Cipria è una donna per forza. Cipria. la mia sigla Anatra Metallica non ha niente a che vedere né con con voi né con Anatra di Cunna la mia sigla Anatra Metallica ha a che vedere con un regalo che mi ha fatto mio papà io ho molto regato a mio papà che ormai sono tanti anni che non c'è mi ha regalato un braccialetto si usavano in quegli anni i braccialetti di cuoio con un bottone si chiedevano col bottone questi bracciali di cuoio con delle pietre finte e sul bottone di questo bracciale c'era scritto Anatra Metallica e io mi sono innamorata di questo nome Anatra Metallica anche perché a me le Anatra sono sempre piaciute quindi quello sarà il mio nome l'Anatra Metallica perché era L apostrofo Anatra Metallica ed era scritto con un font particolare una grafica particolare che ho ricopiato mi hanno fatto un adesivo circolare come il bottone che aveva attaccato dietro al camion perché anche lì si usava avere la sigla attaccata dietro al camion che ti voleva chiamare e chiamava quel nome che c'era scritto dietro svelata all'origine dell'Anatra Metallica poi c'è una curiosità legata a questo nome perché? un giorno in tangenziale a Bologna ci chiama collega ma anche un po' infastidito questo mi aveva lasciato stupita perché ero infastidito mi fa Anatra Metallica cosa c'è no? dove hai preso quel nome? perché? perché quello lì ho anche registrato il nome dell'attività di mio figlio di qua di là che fa la bigiotteria infatti gli ho detto l'ho preso da un braccialetto mi piaceva ho usato quel nome lì no perché? ma perché? cioè voglio dire alla fine ti faccio pubblicità no? non è che ti rubo niente vabbè poi la discussione è finita lì niente di che ma va detto caspita cioè invece che essere contento e uno apprezzo mi è infastidito no non dovete no ma no così la curiosità anche è quella il mondo è piccolo è strano ci si incontra cioè uno sceglie un nome che è il nome dell'attività di un figlio di un camionista che poi tu lo trovi in strada e leggi il tuo nome dietro al camion cioè sono proprio quando si dice i casi della vita tutto il mondo è paese vabbè che è il nome dell'attività Grazie a tutti E vuol dire un'altra cosa per il paletto del film con voi e del paracchino Il film con voi inizia con una natra di gomma che sta attraversando un deserto E mi dice interrompe uno nove, interrompe uno nove, c'è nessuno in onda da queste parti, una cosa così E a me l'ha sempre fatto specie perché la traduzione è letterale, cioè chi fa il doppiaggio del film fa una traduzione letterale Quindi non sapeva che noi in Italia, quando parliamo al palacchino, parliamo e parlavamo con gli americani Perché probabilmente, senza probabilmente una lingua originale, lui diceva brecco Il canale degli italiani non era il 19, era il 5 E quando uno voleva parlare con qualcuno, diceva, brecco sul cinque, c'è qualcuno che mi ascolta? Interrompe uno nove, interrompe uno nove, era l'equivalente del nostro brecco sul cinque L'ho visto il film, lo conosco! Mi ho fatto anche l'empulce a quel film lì, ti capi? Vabbè va, una curiosità così dai, dite di te Se mi viene in mente qualcosa, lo dipoglio avanti, qualcos'altro Ciao! Adesso sono qua sulla 1 in direzione 9, caricato E sto tornando indietro, fa caldo Siamo già a 25 gradi, però è tutto un ruolo qua Un ruolo e affoso Va bene, ciao, bye! Tornando, tornando, tornando perché sono tornato a casa Tornando al discorso della mia passione per le Anac Perché ho detto che a me le altre si sono piaciute Oltre al film che c'era l'anatra di Roma Perché poi lui aveva il simbolo dell'anatra sul camion E adesso lo fanno di plastica Qualcuno si ricorda, in qualche vecchio video Ce ne avevo uno su uno scotto, andata per il tavolino L'anatra nera, era nera la mia però Il modello era quello lì L'anatra allrabbiata di con poi A parte quella, c'è l'Oland H Che è appassionato di camion Se lo ricorderanno, era un pazzo Così, di plastica Era un camion cisterna Che invece della cabina, aveva la testa di un'anatra col tetto Che si usava a metterlo sullo spoiler sul tetto della cabina C'erano diverse versioni anche di quello lì, no? E ne avevo due Ne avevo due ma non era quello originale Non era quello originale Bucca Bucca galleria La mia invece era quella negra Mi l'avevo comprata l'area di servizio Guardi santi Sulla Adriatico, sulla 14 Diventevano a pochissimo C'erano ancora le lire, le avevo pagate 5.000 di euro in una Ma era bellissima Una era verniciata, con le cucine e tutto Che non l'ho mai messa sul camion Ho tenuto a casa da collezione Bella L'altra invece era bianca Come quando si comprano i biblicum Quindi della miscela così bianca E quelli non originali sono tutti bianchi Come uno sebole di vernicia Ecco, quell'altra era tutta bianca E l'avevo verniciata io contro il colore E l'ho messa sul tetto del mio 170 Sulla spoiler così Poi ho cambiato il camion Smontata perché non è rimasta sul tetto del camion Smontata Grattugiata Riverniciata Montata sul tetto del 180 Che è quella lì sullo spoiler così C'è sempre stata un'anatra della mia cabina Avevo anche la placca Quella era originale Proprio Holland Duck Crab Montata sulla mascherina E niente Passione per le anatre Perché quando uno sta in più tanto così Si diceva Cioè la cabina effettivamente diventa la tua casa E te la redi La redi dentro e fuori Ma una volta c'era di più Ogni tanto quando quelli che passano Una volta c'era Come si può dire Chi personalizzava i camion? Li personalizzava in un modo molto artigianale Metteva su qualsiasi cosa Mi piacesse Adesivi Adesso sono tutti fatti fini Tutti Così no Devi essere tutti precisi Camion perfetti Cioè una volta Cioè una volta puntavi su Mettevi adesivi Mettevi Uno che ti ripareva Mettevi no E niente A me piacevano di più Le personalizzazioni anni 80 90 Poi Una questione di epoche Di gusti Di stile Una volta si metteva Di questi pupazzi Anche perché una volta I camion avevano Tanto abbastanza piatto Con lo squagio assurdo Quindi si Erano idonei A mettere queste cose Sul tetto Mentre adesso Con le cabine alte Non metto su niente Perché non si vedrebbe Invece una volta Si metteranno Tutti questi pupazzi Queste cose Invece Iron Duck Iron Duck Non c'entra col baracchino Non c'entra col baracchino Perché Semplicemente Quando Avevo Aprire la mail Non volevo mettere nome e cognome Sull'indirizzo mail Ma l'ho detto Io al baracchino Sono una natra metallica Iron Duck Mi piaceva il suono E ho aperto la mail Con il nome Iron Duck Tutto lì E da lì poi In internet Nel blog Così Sono diventata Iron Duck Però parte tutto Dalla natra metallica Nel baracchino E poi Diciamo In più In più Oltre ad avere la sigla Anacra metallica Sul 170 Sul metro Una volta le camine L'avano detratte No? Sul metro Lato guida Avevamo un bel adesivo Di paperino Bello grande La faccia di paperino No? Paperino non l'avamo trovato Non l'avamo messo Su sto paperino qua E allora Tanti mi chiamavano La paperina Perché avevo su Quello adesivo lì Sempre anacra Perché anche paperino Donald Duck E' un anacra Sempre anacra Sempre anacra Va bene Proseguiamo il viaggio Grazie a tutti